Ciao bella signora Mi lasci in pace Damela Mi dai qualche extra, tesoro? Mi state divertendo? E' meglio che te ne vai, amico Credo che sia meglio per voi se ve ne andate Va tutto bene Ti ho detto, sparisci Adesso prendi il tuo temperino E con i tuoi amichetti vai a prendere l'autobus Oh, sei un tipo spiritoso Oh, sei un tipo Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. La prossima volta stia più attenta quando tira fuori i soldi. Sì, sì.